La colletta alimentare funziona così, ogni anno in tutti i supermercati della provincia, quindi in Cremona vengono in sostanza raccolti cibi a lunga conservazione. Abbiamo dei punti di raccolta esterni, all'interno ci sono degli altri volontari che chiedono a tutti quelli che entrano di acquistare questi doni. Alla fine tutto quello che viene comprato viene portato nei magazzini della fiera e da qui entro fine febbraio verrà ridistribuito a tutti gli enti locali. Per il 90% andrà alle cucine benefiche e alla Caritas diocesana, alla San Vincenzo dei Paoli e ad altri piccoli enti che hanno bisogno di questo cibo. A parte un leggero calo in mattinata, pare che i supermercati stanno arrivando con il grosso della merce. Quest'anno la crisi si fa assolutamente sentire, il dato bello che tutti comunque donano. Il magazzino lo riempiremo come sempre. Alla fine, mandi, so che lei ha? So se mandi, n'i avea? Alla fine, mandi, 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 mandi.